23 agosto 1991, a quattro giorni dal fallito colpo di Stato in Unione Sovietica, il presidente Mikhail Gorbachev avvia l'epurazione dei membri di gabinetto e degli ufficiali responsabili. Il ministro della difesa Dmitry Yazov e il capo del KGB Vladimir Khrushkov vengono arrestati. Il ministro dell'interno Boris Pugo si toglie la vita per evitare il carcere. Gorbachev licenzia anche il primo ministro Valentin Pavlov e quello degli esteri Aleksandr Biesmiertnik. I cospiratori del golpe saranno graziati nel 1994. Perché Mikhail Gorbachev oggi è più noto e anche più apprezzato in Occidente che in patria? Perché tentò in quella fase che fu caratterizzata da due parole in russo che divennero velocemente molto famose anche in Occidente, glasnos, ovvero trasparenza, il fatto che il pubblico potesse controllare il potere politico e perestroica riorganizzazione. Questi due tentativi, questi due obiettivi che la presidenza Gorbachev si poneva furono in parte realizzati in quegli anni. Ma lo stesso Gorbachev non riuscì a conferire alla sua missione politica quella capacità di rassicurare il popolo russo e di dare una garanzia di sicurezza sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico. Questa scarsa capacità di infondere una leadership rassicurante e di sicurezza per il proprio popolo costò allo stesso Gorbachev diversi tentativi, come appunto il colpo di Stato, di estrometterlo dal potere. Il suo fu sicuramente un operato molto positivo dal punto di vista dell'apertura della FU Unione Sovietica Neo-Russia, ma certamente lo indebolì molto sul fronte interno, tanto che oggi appunto c'è una leadership molto diversa da quella che auspicava Gorbachev allora e i russi stessi hanno un ricordo dello stesso Gorbachev più legato al caos e all'insicurezza che non ai giusti tentativi di espansione della libertà.